Stavo giocando quando all'improvviso è arrivato un hacker che mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta per quello che era in grado di fare Attenzione perché questa domenica sono in live per giocare tutti quanti insieme, guardate questo tizio cosa ha combinato, ma iniziamo subito Allora, possiamo fare grandi business perché questo oggetto che si chiama Overload interessa veramente veramente un sacco a molte persone E mi stanno proponendo quindi di prenderlo, il mio obiettivo è di salire di rank e mi sta dando una spada a Doctor Strange che in realtà però è più scarsa della mia 24 Ultra e 3 Beacon, ora vediamo un pochetto perché la mia comunque è 36, anche perché hanno aggiunto il mio kit E tra l'altro se fate Slash Mr. Domi, quando entrate all'interno del server vi dà anche un regalo La spada, già ne ho una migliore, mi interessano più Ultra Vediamo invece Walcol, cos'è che accetta? 23, una spada che in realtà è più forte della mia 19, eeeh, 20 me le ho P, però io in realtà già ce le ho E 23 Ultra, mmm, mmm, devo un attimo ragionare Allora, questa offerta mi interessa un sacco, però un attimo Walcol, vediamo un attimo chi mi accetta di più Vediamo Spanixone invece, cosa propone, cosa propongo negli altri Oh, ma, ok, ok, mi sa che accetto invece Jobrex con uno stack di Ultra, uno stack di Mele OP e la spada Locchi Con Forza Divina, Regi 5, Protezione Sangue, Execute 7 Ok, siccome la mia spada è già molto forte, avendo anche l'Enchant, alla fine mi conviene in realtà accettare questo Perché dà l'Enchant Experience 5, che è l'Enchant per poter farmare migliore del gioco Perché ci dà veramente un sacco di livelli, un sacco di roba Quindi andiamo a metterci questo qui da parte, ok Per salire di rank, io sono rank Venom, ho bisogno di 6 Ultra, 10 blocchi Venom per poter salire a rank Black Panther Quindi, come vedete, comunque, con le Ultra che ho, io posso farmi in realtà già ben 2 rank Arriverò al rank Ultron e direi di andare subito alla miniera E ci possiamo prendere il... mamma mia quanta roba che mi sto prendendo fortissima Guarda qua, guarda qua quanta roba che mi... ho fatto i top trade, vieni qui, porta tutto quanto a casa Guarda qua quante mele OP che ho, altro che il vero mele OP che invece è scarsissimo E tra l'altro, a proposito di mele OP, avrò lui come guardia del corpo che mi seguirà per potermi proteggere Ok, abbiamo qui Mela, che quindi mi dovrà fare compagnia, mi dovrà aiutare, mi dovrà proteggere per sopravvivere Dobbiamo andare quindi alla miniera di Venom, perché ho bisogno di farmare in quella miniera Eccola qui, perfetto, trovata subito, di fianco quella lì di Spider-Man, molto easy Prendendoci quindi questi blocchi enchantati possiamo subito salire di rank e farmiamo subito al volo Tra l'altro, questa domenica andrò in live proprio su questa modalità dove i più forti li unirò al clan Quindi raga, se appunto volete partecipare, volete entrare nel clan e volete giocare tutti quanti insieme Sicuramente è una roba che vi può sicuramente tornare utile Mela che fa sempre casino, Mela smettila di fare casino Mamma mia è sempre Mela, io non ho parole Ok, io mi sono quasi mangiato tutta l'intera miniera, solo che dobbiamo aspettare il reset che sarà tra 50 secondi Ok, miniera resettata, facciamo subito giro, giro tondo Cioè Mela che mi sta chiedendo di venire givvato, Mela Io faccio il business, tu la tua roba te la fai da solo Cioè io non lo so Sicuramente lo dovrò pagare perché sta qua che mi sta proteggendo, mi sta controllando perché appunto il PvP è abilitato Ho buttato il mio piccone, sono pazzo E mi mancano pochissimi blocchi perché devo arrivare a 10 Ok, questa dovrebbe essere l'ultima farmata che mi serve per potermi appunto prendere il rank Perché mi manca soltanto un blocco OP, vediamo un pochetto Andiamo qui, ok, li dovrei avere tutti Dopo prendo... oh hanno attaccato Mela Hanno attaccato Mela, Mela ti do una mano Ti do una mano bro tranquillo Mamma c'è la mia skin, Alfredino Alfredino vieni qua Mamma mia ha distrutto Alfredino, bravo, bravo Ok, meno male, ho fatto bene a prendermi una guardia del corpo perché quello lì aveva un kit messo molto bene Poverino aveva la mia skin ma in questa modalità c'è il PvP Se uno non fa attenzione si ritrova shottato subito E potevo fare io la sua fine se non avessi fatto attenzione Comunque andiamo a prenderci le banconote ultra che abbiamo qui perfetto E andiamo subito a fare il rank up al rank Black Panther Ole, diciamo così Black Panther Prossimo rank Ultron, dobbiamo fare attenzione raga perché ci saranno sempre più persone che mi vorranno distruggere Io fortunatamente mi sono armato molto bene anche perché è una forza 5 e dovrò cercare di distruggerli Ok, eccolo qui subito sotto Venom abbiamo il rank Black Panther Guarda che bella questa miniera Ole, e subito a farmare pure questi Ok, fortunatamente Mela perché come vedete abbiamo quel puntino rosso che ci fa capire chi sono i nostri compagni E in questo modo possiamo stare un po' più tranquilli E a proposito di tranquillità Mela, tutto a posto, sento prendere danno, sento combattere Ho sentito robe, spero che stia bene A me fortunatamente nessuno ha dato fastidio Questa cosa mi va benissimo così Le miniere sono molto piccole quindi in realtà fortunatamente Ora mi è stati già tu Fortuna, cos'è questo? Non so che sia, ok Se ne va, ciao Deadpool Va bene, non mi faccio domande minimamente Perché appunto in questo modo posso prendermi tutti quanti i blocchi che mi servono più velocemente Purtroppo le miniere sono piccoline E questa cosa magari può dare un po' di difficoltà Però io so che faccio Qua sopra, piano, 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 piano Ok, perfetto Mi apposto qui così nessuno mi dà fastidio Ok, prendiamoci al volo anche questi Dovrebbero essere quelli lì che mi mancano di nuovo per poter fare il rank up Oh, 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 è tornato Alfredino Mena Alfredino, menalo Oh, c'è una roba strana sul... Oh, ma che movimenti sta facendo con la testa? Oh, mi sta shottando Ma sta cittando rispetto a prima è diversissimo Ma che sta facendo? Oh, è impazzito se n'è andato Gang, chat, bro Tutto... sta volando via Mela Ma che cos'era? Allora, io non mi ricordo quanti blocchi servivano Però dovrei essere a posto Mi sembra che se n'è andato di nuovo Quindi ora si rispetta anche la miniera Non è vero è tornato Scusami, ma prima l'abbiamo distrutto No, no, zi, mi distrugge No, non c'ha senso di esistere Mela OP? Cioè, non Mela OP quello che mi dovrebbe dare una mano Ma lui? No, vedi? No, non c'ha senso No, zi, mi sa che sta cittando No, no, ma mi... Oh! Oddio La Mela OP non riusciva a prendere la rigenerazione abbastanza No, 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 no Non c'ha senso Mi sa che sta cittando Ma posso venire distrutto? No, c'è il muro per il combat Posso venire distrutto da Alfredino Ma non ha senso Mamma mia, mi ha massacrato Ok, io c'ho un attimo... Sì, sta cittando Blatant Ha scritto Mela Io avrei un attimo paura ad uscire fuori È l'owner di cheat Ma mi ha levato tipo dieci cuori a hit E hitava entrambi insieme Per favore regia Un piccolo rallentatore con il PvP Quando stavamo io e Mela insieme Ma mi stava massacrando Per il meme Nel frattempo io ora in cappo comunque Perché le cose ce l'ho Qui gli porta a casa Sto sbloccando la possibilità di prendermi altri kit Alla faccia di Alfredino che citta Non si citta Oh, mamma mia Mi ha distrutto Potrei diventare Deadpool Se arranco di nuovo Però abbiamo un attimo un problema E il nostro problema si chiama Alfredino Che a quanto pare sta cittando Io dovrei andare Miniera Ultron Però se arriva scappiamo decisamente Ok, i miei piccoli runcapp piano piano stanno andando avanti Eccola qui la Miniera Ultron Essendo che stiamo runcappando Però le miniere sono vicine Quindi anche se noi ci stiamo spostando di rank Questo qui potrebbe seguirci senza problemi Non ho manco visto quanti blocchi servono per runcappare Perché me l'ho distratto per il cheater È tornato di nuovo Alfredino Menalo No, no, no Non mi stava guardando Non mi stava guardando mentre mittava Non mi stava guardando Perché poi c'è il kit di Thanos C'è, ma che... Non riesco a prenderlo Mi ha messo in combo Ok, guarda, guarda, guarda com'è Mena Guarda com'è Mena Ho un'idea Ho un'idea No, 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 no Ok, mi sono... Via Ho bisogno un attimo di rigenerarmi Mi sembra di aver visto anche altra gente Facciamo un attimo con calma Vorrei provare a incastrarlo nelle cobweb Oh, c'ho sette cuori Resisti? Lavoro duro il bodyguard Mi dicevano, eh Vai Mela Bravo Continua così Vai uomo Fai la facciata Che c'hai anche... Visto che è il kit boss Sai, la testa come la mia magari ti confondono Per me ti scassano a te di botte A me andrebbe benissimo Ci abbiamo tutta quanta Pure quest'altra miniera Ok, reset di nuovo È tornato qualcuno È tornato qualcuno È tornato Alfredino Ma subito di Mela OP Cioè Mela OP Ok No, 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 no Sono finito incastrato No Ma era dentro la cobweb È riuscito a partire via Ma com'è fatto? Proviamo A metterlo fuori Eh, deve stare più fuori No, non posso mettere le cobweb qua Guarda, ma stai ignorando le cobweb che ci sono a terra Guarda È rimasto bloccato Ora che è bloccato Ora che è bloccato Mena lo... Eh, aspetta Devo attivare l'hitbox Ok Perché quando uno sta volando Possiamo picchiare i suoi piedini Ora, ora, ora Aia Ma che mi ha dato veleno Mi ha fatto? Eh, niente È partito via È partito via Si è incastrato di nuovo Goto Eh, niente Eh, vabbè Ma come lo prendi? Ah, sta picchiando entrambi Sta picchiando entrambi contemporaneamente Però siamo due contro uno Siamo due contro uno No, dove è andato Mela? Mela torna Non c'è ne scappato Mi sta venendo Eh, mamma mia È diffi... Ah, non ho fatto Eh, vabbè Oh, i danni Oh, mamma mia Ok Mela OP di nuovo al volo Meno male che ho fatto gli scambi La devo smettere di chiamarle Mela OP Perché se le chiamo Mela OP Sto chiamando Mela Ma non è Mela Ma no Perché si chiama così? Cambiamo nome Mille like a questo video E faccio cambiare il nome a Mela Impera OP È complicatissimo Sono andato di nuovo Oh Vabbè C'era una mosca Poverino C'era qualcuno in tutto ciò Che è stato scoppiato Non sono neanche riuscito a vederlo Non riesco Oh Sta distruggendo Mela Lo sta massacrando Lo sta spaccando di botte Salve signorino Dovresti proprio andartene Perché ti massacrano per te ora tra poco Piamo al volo altri blocchi Oh È arrivato qualcun altro Oh È tornato ancora Ma basta Basta C'è anche altra gente ho visto Ok Ma miei danni che fa Aspetta siamo in tre Perché questo qui con l'ancha media Mi sa che ha capito che questo sta citando Sta morendo In seguino Oh che buono Prima che si rubano il loot Via 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 Stava citando Eh me ne Eh me ne sono accorto No no Ok 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 Buono Anche se sono ancora bel lontano Per finire il rank Io direi che è già un obiettivo enorme Il fatto che sono sopravvissuto Che gentile Questo zibi è venuto Mi fa Dome Ti proteggo io Grazie mille Gentilissimo Tac Ultrabanco note Mettiamole qua Mettiamo questo E dammi il rank Deadpool Che è il mio supereroe preferito Della Marvel Ole che figata Mr.Dome ci sta là che fermo il volo In un angolo della mappa Tutto crazy Eeeh Gang Portamici A sto punto Fammelo vedere Ok E dove dobbiamo andare E vabbè ma così mi sembra pure un attimo too much Però signor Alfredino Ma Ma come fa Oddio non riesco Sono un attimo in difficoltà Fammi appoggiare qui Ma Ma è scomparso andando là Ma What Ma che Ma che Mi vedo visto da un'altra prospettiva Sono bislungo Ma Ma Là sopra ci sono Io con i Ma È un troll Che sta succedendo Ma pure sotto È un altro me Aspetto un secondo Ma come hanno permesso sta roba No ma è un troll del founder Hanno preso una mia foto L'hanno editata con i cuoricini Ma guarda se io mi metto da sotto Divento tipo tutto bislungo Scrivami in privato Ma è un troll o cosa Anche se Mi sembra Abbastanza palese Ma la sua faccia È una mia gamba What Cosa sta succedendo alla sua faccia Perché ogni tanto diventa una mia coscia Ma che cosa Guardalo guardalo Ma che Il founder mi ha detto che lo possiamo aggiungere questa zona Cioè questo è andato a contattare il founder Gli ha mostrato questa build E il founder mi ha detto di sì Gli ha detto di sì Mi sa che gli devo parlare Ma sa anche che Citi Cioè non mi sembra proprio il caso Di una cosa del genere Li ho usati solo per farmi notare da te Eh sì Ma è bannabile Non dovresti fare una cosa del genere Io sto vivendo il multiverso Cioè guarda le nuvole di minecraft E poi me Ti volevo chiedere se vuoi fare 1v1 senza cheat stavolta Se vinco Smetti di cittare E Sta roba della faccia Mi fa un po' paura Ma E stiamo a posto Dai Tanto c'è la forza 5 La dovrei distruggere in un attimo Vediamo un attimo se serve Va bene occhiaccetto È molto difficile fare le combo appunto con questa roba Anche perché siamo con una speed altissima Però lo sto piano piano calando Sai cosa potrei fare al volo? Come dicevo prima Sai che faccio? Forza 5 Forza dell'imperatore E vieni qua Ok ora lo dovrei riuscire a calare Distruggere e massacrare Ok Combo Perfetto Lo sto calando un botto L'ho distrutto Mamma mia l'ho calatissimo Mamma mia l'ho calatissimo Guarda qua quante veloppe aveva Ho dovuto utilizzare però la pozzone con forza 5 Che mi stavo conservando Giorosamente Lui se la voleva rubare da tutti i costi Io ho detto No È mia Come mi ora tutto questo kit Grazie mille Pagamento al bodyguard Ma che pagamento Che ho fatto Tutto io Ah scriviamo ad Alfredino Ora che ti ho chillato Ma sta ancora volando Ma scusami Avevamo una promessa Smetti di cittare Non fare più niente Anche se lo sto facendo ora che sta volando Ah ma stava buildando un cuore Appresso il cuore Ma che lo fai volando Forse non è comunque legit Quindi smettila subito Di farlo E fai cancellare questa roba Shbam No Non posso hittarlo Nulla Ci si becca Domani con un nuovo video Vi aspetto sul server Per appunto giocare insieme A domani Bella Ciao Ciao